Che cosa ci rende umani? Che cosa ci rende umani? Avete presente quando vi esce in calcia? Dimmi che non sei un robot e tu fai tic. Basta un tic a dire non sono un robot? Quanto ci vuole a un robot per rispondere a un captcha? Io no, io non sono un robot. Quando trent'anni fa con Liddy a Dezenzano avevamo fatto questo forum sull'apprendimento, l'insegnamento e la tecnologia, eravamo in piazza e abbiamo fatto a Liddy la stessa domanda. Qual è la differenza tra noi e le macchine? E subito uno ha detto, lei il sapere. E lei ha detto, mh... Dice, an ATM knows stuff. Un bankobank conosce robe. Sa e conosce quanti soldi ho in banca più di quanto non lo sappia io. Sa se li posso ritirare o no. Sa quanti ne ho ritirati stamattina e se possono ancora. Quindi, la conoscenza non è ciò che ci distinguono le macchine. Parlavo con un radiologo, non so se voi sapete che i sistemi robotizzati di analisi radiografica fanno sì... Perché siccome non ci sono più le lastre, ci sono ancora le lastre, ma in realtà le lastre, lo sapete tutti, sono immagini digitali. Quando fate una tab, danno il CD in tutte le immagini digitali. Adesso immaginate, come è in effetti, che ci sia un mega archivio con tutte le lastre, con tutte le diagnosi. Lui dice, io sono un bravo radiologo, ma perché ho l'esperienza, perché ho visto tanti casi e quindi magari rivedo una lastra e dico, cazzo, questa qui... Secondo me è come quel caso là che avevo visto, è il bravo radiologo sulla chiusa dell'esperienza. Ma dice, io non posso fare niente contro un sistema di lettura di immagini che legge centomila radiografie analogo in un secondo. O un milione di radiografie. E allora arriviamo alla fine del mio pensiero. Probabilmente ciò che ci rende umani è in questo terreno qua, non ho certezze. Ma il mio istinto mi dice che probabilmente è l'amore, è l'emozione, è la relazione, è l'etica, l'arte, la creatività. Cioè è in questo ambito che dobbiamo trovare quello che ci rende umani e dire, io cosa voglio che esca qui da Danedello? Dei bravi lavoratori? Della gente che sa avvitare il bullone della testata di un appunto? Sì, però bisogna informare. Perciò è che siamo in grado, Ettore, di affrontare il mondo da fuori. E in un mondo dove nessuno di noi sa che cosa ci sarà per davvero. Io ho bisogno di valori fondanti. Ho bisogno di fare in modo che queste cose che ci rendono umani, a differenza del mio romba che pulisce i pavimenti o di Alexa che mi spegne le luci. Probabilmente è lì. Quando ero in Sardegna, mi è stata detta una frase dal quasi Nobel con cui lavoravo. Ogni mattina facevamo colazione assieme. E quando ho fatto un'ulteriore scoperta di quali erano i geni che generavano una forma di diabete, una scoperta sensazionale, mi faceva, era molto contento. Ti faccio, Paolo, ti vedo contento. Si fa. Perché ogni volta che facciamo una scoperta spostiamo Dio un po' più in su. Ho riso all'inizio su quella battuta e la trovo profondamente importante da comprendere. Cioè, al di là di che uno creda tanto, poco, più o meno, ma se c'è un Dio, io non riesco a immaginare un Dio che si preoccupa di allacciarmi le scarpe, di far piovere queste robe qua. Dio è molto più in alto. E' un'idea molto più alta. E' probabilmente molto vicina a quell'amore con la A grande che non appunto quello che mi accende la luce, il lampo o mi fa venire la pioggia. E quindi, anche per me, significa sforzarmi ogni volta di non rendere Dio responsabile di minuzie umane o di attribuirgli tutto ciò che non so. Se questo è vero, io quello che mi sono detto con l'intelligenza artificiale, allora dobbiamo fare la stessa operazione con l'uomo. Spostando più in alto, perché cosa ci rende umani? Proviamo a immaginare davvero che essere uomini non sia solo quello di lavorare come dei matti, di avere il conto in banca, la macchina, girare come trottole. Forse c'è qualcosa in più che grazie poi all'intelligenza artificiale possiamo allevare, così come con il fuoco abbiamo migliorato la nostra vita di uomini delle caverne. Quindi, infine, vi chiedo cosa penso dovreste insegnare in questo mondo che è già pieno di robot. Materie o modalità? Ve l'ho detto, quando ho scritto le ultime slide, ho detto, ma come glielo dico a fare? Siete, è l'unica scuola che conosco che davvero vuole bene ai ragazzi che c'è che avete, che davvero si prende in carico del loro futuro, che li include, che non li discrimina. Che ve lo dico a fare, mi sono detto, no? Però non lo devo dire. Cioè, se vi dite cosa devo fare, sicuramente una scuola deve fare questa roba buona. E tra l'altro, ancora di più di prima non va analizzato, perché è maledettamente importante. Se siamo d'accordo sul filo del ragionamento che ho provato a stendere, e questa cosa, se era importante, quando è che abbiamo cominciato a fare quanto tempo è? 5, 3, 4, 5 anni? Con il discorso del digitale qua. Quanti anni sono? Sette? Ecco, questa notte ve l'ho detto sette anni fa, e voi da bravi avete dato vita a tutto quello che avete fatto. per la serie, quella roba lì, ancora di più. Ancora di più. E non è una materia, è un modo, che vi chiedo, rafforzare ancora di più i concetti di inclusione, di fratellanza, di umanità, di comprensione. Ma soprattutto quella cosa che secondo me più di ogni altra poi nella modalità ci distingue dalla macchina, la curiosità. la curiosità, la voglia di sperimentare, il coraggio di provare, la fiducia, la fiducia che un allievo deve sentire in voi. Perché? Perché quello è l'ingrediente sacro. e devo ringraziare Alberto perché un giorno quando eravamo a mangiare, gli ho detto, insomma, c'è una cosa, lui, credente, io mica tanto, e gli ho detto, c'è una cosa che non mi piace, Alberto. Pensare che ci sia solo un creatore che sia lui, perché questa esclusiva della creazione non mi... e lui ha detto, no, no, non è mica vero. Guarda che Dio si riferisce a noi come creature e in latino creaturus è colui che creerà. Cioè Dio ha fatto noi come soggetti che creeranno. Quindi la creazione non è un'esclusiva divina, mi ha detto. Anzi, è la parte di divino che c'è negli uomini. Devo dire che come spesso accade, Alberto mi ha messo un famoso sassolino nei miei ingranaggi e questa cosa mi convince ancora di più perché la capacità di creare, la capacità di inventare, di immaginare mondi sono forse quello che dovete fare più di ogni altra cosa. Poche parole, poche competenze. non preoccupatevi, se non hanno le competenze chiederanno a una qualche intelligenza artificiale qual è il raggio della sfera a Siri. ma valori etici non li posso chiedere a Siri e non li potrò chiedere all'intelligenza artificiale. se conoscete la storia di Margaret Meadon è un'antropologa a cui è stato chiesto quando comincia la civiltà e lei ha detto c'è questa foto dell'osso la riprova di un osso che è stato curato dice la civiltà nasce da questo osso quando un essere umano si è preso cura di un altro essere umano. La cura dell'uno e dell'altro è il simbolo della civiltà. Quindi abbiamo un sacco di strada da fare ci sono tante difficoltà non conosciamo la strada non abbiamo una mappa quindi nessuno è in grado di dirvi come si affronta il mondo nell'intelligenza artificiale dovete sperimentare darvi una mano all'un l'altro farvi venire dei dubbi rispondere e provare ma secondo me è una grande occasione per renderci tutti migliori. Grazie Grazie